Sto andando? 3, 2, 1, via! Vai Franci! Ecco le immagini girate sull'imbarcazione di cartone che domenica ha vinto la Maller Cartoon Race, novità del pagio delle contrate di Sondrio, la popolare manifestazione giunta alla sessantesima edizione. A bordo c'erano Federico Rossi e Francesca della Morte, capo contrate della piastra. I partecipanti alla simpatica competizione hanno avuto due ore di tempo per costruire le barche utilizzando pezzi di cartone ondulato e lo scotch. Ogni equipaggio poteva essere formato da due, tre, massimo quattro persone, 300 metri da percorrere pagaiando lungo il corso del torrente Mallero. La sicurezza garantita dall'indomita Valtrina River, società da tanti anni impegnata nella diffusione degli sport acquatici. Sulle sponde a fare il tifo i contradaioli e tante persone incuriosite dalla singolare competizione. La Maller Cartoon Race, novità introdotta quest'anno dalla Proloco, è stata promossa a pieni voti dal pubblico. È diventata una delle sfide più attese quella dei carretti pazzi andata in scena per la settima volta sabato pomeriggio nel cuore della città. In piazza Garibaldi la punzonatura sotto lo sguardo della giuria, che ha valutato l'estetica delle simpatiche monoposto. Filo conduttore quest'anno il rispetto dell'ambiente. Il rito della pesatura, con Saverio Froio presente alla Proloco a sovrintendere, l'idea che ha dato vita ai carretti illustrata dai contradaioli ad Alberto Giannoli. Poi è iniziata la corsa contro il tempo, la discesa dal Moncucco fino a Piazza Quadrivio, attraversando la contrada di Scarpatetti. Quarta vittoria consecutiva per il mezzo senza motore, creato dalla strana officina, condotto da Emilio Cavazzi. Cento i punti incamerati dalla contrada di San Rocco. Sempre dalla strana officina, questo bolide battezzato Ballet Bill, guidato da Andrea Foppoli.